Buongiorno amici, oggi siamo qua a Cruccia, non c'è nessuna spiaggia, io ho passato per farmi la passeggiata per controllare la spiaggia, come tutti i polneari. Ecco, quello ci ha restituito anche oggi, in periodo di coronavirus, il mare, perché è molto generoso, ci restituisce sempre quello che noi ci lasciamo in mare. Questo è quello che... adesso vi faccio un altro giro col bidone, come ogni mattina, senza incontrare nessuno, perché siamo in periodo di coronavirus, e mi raccolgo le mie microplastiche, perché sto facendo la collezione. Buongiorno a tutti, state a casa. Buongiorno a tutti, mi raccomando, state a casa, poi ci troviamo tutti in mare tra un mesetto, quando abbiamo sconfitto il coronavirus. Mi raccomando, eh? Un dos.